Alle prime luci dell'alba con il coordinamento del gabinetto del sindaco è iniziata l'operazione Decoro ai sottopassi di Corso Italia al fine di provvedere ad una migliore sistemazione dei senza fissa dimora che vi alloggiano. Hanno partecipato all'operazione la sezione PIX Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale, i servizi operativi sociali del Dipartimento Politiche Sociali a Malline, a Decoro e a CEA. Rimossi tutti i giacigli presenti negli accessi delle uscite di sicurezza di Piazzale della Croce Rossa per un totale di 12 metri cubi. Sono stati impiegati quattro autocarri AMA, una compattatrice e un gruppo elettrogeno per l'illuminazione durante i lavori. Al termine è stata effettuata la sanificazione e disinfestazione dei luoghi. Il prossimo fine settimana l'operazione verrà estesa ai sottopassi di via Boncompagni e già da domani squadre della sezione PIX e AMA Decoro effettueranno delle opere di cancellazione scritta ed effissione di manifesti nel centro storico e nei quartieri di Garbatella, San Lorenzo e Pigneto, opere che rientrano nel più ampio progetto pianificato dal gabinetto del sindaco e denominato Decoro Partecipato.